Alessandra Formica con la vittoria netta su Sesto San Giovanni è arrivato finalmente il primo obiettivo stagionale, arrivare tra le prime quattro. Con che spirito affrontate le prossime partite? Beh sicuramente essere tra le prime quattro è una grande soddisfazione, è un gran risultato, era quello che volevamo e adesso già dalla partita di domenica comunque dobbiamo consolidare il nostro gioco, non prenderemo sotto gamba nessuno, già da Battipaglia che sarà una squadra molto aggressiva e lo faremo per continuare a migliorare, per prepararci ai playoff. Appunto, Battipaglia è una squadra che è in lotta nelle posizioni per entrare nei playoff, che squadra vi attende in una trasferta calda perché al sud sono sempre trasferte calde? Sicuramente Battipaglia è una squadra molto aggressiva, ci aspetterà una partita tosta anche perché l'Oreo non è un campo facile, però come ho detto ci stiamo preparando i playoff, quindi i playoff è quello che ci aspetterà e affronteremo la partita nel migliore dei modi. Concludendo la settimana di lavoro, che Humana Reir arriverà a questa trasferta? Come avete lavorato in questa settimana con le compagne? Ci sono delle problematiche, ci sono buone condizioni, ci sono possibilità anche adesso senza l'Euro Cup di lavorare più tranquillamente? Sicuramente adesso, vendo la settimana completa, riusciamo molto di più a lavorare sulle nostre cose, sui dettagli, mentre prima con le partite ne riuscivamo. Penso che stiamo raggiungendo la forma, quindi non c'è nessun problema e siamo cariche perché per noi ogni partita è importante, nonostante comunque siamo quarte, però vogliamo fare bene, quindi non prendiamo sotto gamba nessuno. Grazie a tutti.